Nata a Livorno del 1918, aspira sin da giovanissima a lavorare nel mondo dello spettacolo, tanto che un giorno si presenta al capocomico e attore Antonio Gandusio, che dopo averla ascoltata, la scrittura per la sua compagnia, dove debutta nella commedia Milizia Territoriale del 1937. All'Arena di Verona, notata da Mario Mattoli, viene scritturata nel cast della pellicola Questi ragazzi del 1937. Sarà il primo film di una breve carriera di attrice cinematografica. In seguito Lamari lavorerà solamente nella prosa teatrale e televisiva, spesso insieme al marito Ernesto Calindri, dal quale ha avuto quattro figli, tra cui l'attore e doppiatore Gabriele Calindri.